No, non cazzo, non cazzo, non c'è altro. Perché poi io ero fissatissimo. Perché? Però non lo tolo così. Non lo so, non lo so, non lo so. Non c'è la parte. Ciao, buon'è. Dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Ehi, ehi, porra, dai, porra. Dai, 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 da, dai, dai, dai. Su, 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 oh, buono, cambio. Possiamo bene la testa, eh? Possiamo bene la testa, eh, sì? Possiamo bene la testa, oh, bravissimo, 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 bravissimo. Sì, diamo, ora una, ora una, bravo. Dai che va bene, così, diamo, diamo, oh, bravo, cambio. Ora bene, sì, la distinzione. Eccolo. Adesso che negamo. Stigiamo la schiena. Prova schiena. Chianga schiena. Eschei attravercci. Ehi, stugiamo. Bravo. Stigione. Ehi, andiamo su. Ehi, si, va bene. Stigiamo su. Ehi, valla a prendere Ehi, bravo Buona Buona Ehi, bravo, non andare in porta Non andare in porta Stai leggermente fuori Ehi, giù, eccola là Ehi, no, questa, questa posizione Non andarmi indietro Ehi, giù, eccola là Bravo Connocomana non devi Ehi, giù, eccola là Gio, eccola là Di giù è Di giù Necór Ehi, bravo. Ehi, ehi, va bene. è importante che non vedete la palla valla a prendere va bene l'opertura della porta compagnieri l'opertura della porta ancora subito però sei impegnato la palla questo esercizio adesso lo ha fatto se tu sei impegnato la palla lì ci vuoi andare tu con la torza c'è la diventa stai bene tu sei impegnato la palla sto stritta subito perché invece è uno che magari sta calciando io devo mancare poi avrò però qui se lì è uno che sta calciando poi devo andare in piedi io non posso arrivare con la torza ehi guarda attenzione ehi ehi ecco la lì bravo ehi bravo cambio bravissimo bravissimo poco tempo questo andiamo a svegli andiamo su valla a prendere valla a prendere bravo bravo trave ok io andiamo le Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Va bene, coprila. Sì, l'hai vista dove è andata? Sì, va bene. Andiamo, facciamo un'altra. Opertura, se la palla va fuori. Oppure visualizzazione. Valla a togliere. Sì, bravissimo. Stop, ragazzi. Stop. Bravo. Ottimo allenamento. Grazie a tutti.